Una forza preziosa e dinamica che fa bene al paese perché tiene conto specialmente dei soggetti più deboli. Così il Papa ha definito le migliaia di giovani del Servizio Civile Nazionale che in Aula Paolo VI lo hanno abbracciato raccontando storie e testimonianze. Il Pontefice li ha messi in guardia da tutti quegli elementi che tradiscono il progetto di una società solidale e fraterna. Esclusione, disuguaglianze, l'impiego di risorse per l'acquisto di armamenti o ancora da atteggiamenti che considerano il povero un'insidia relegandolo nella sua miseria. Tutti questi atteggiamenti rappresentano uno sfregio della nostra società e della sua cultura, immettendo in esse criteri e prassi improntati all'indifferenza e alla soprafazione che rendono più povera la vita non solo di chi è dimenticato o discriminato ma anche di chi dimentica o discrimina il quale finisce per rimanere chiuso in sé stesso e per crudersi l'incontro con la carne dei fratelli che la via obbligata per trovare il bene. Mediante il vostro servizio voi siete chiamati a svolgere una funzione critica nei confronti di queste prospettive contrarie all'umano e una funzione profettica che mostri quanto sia possibile pensare e agire in modo diverso. Dalla tutela dell'ambiente all'aiuto ai rifugiati fino all'impegno verso le popolazioni colpite dal terremoto alle quali ha rinnovato la sua avvicinanza, il Papa ha ribadito come il grado di civiltà di un popolo si misuri in base alla capacità di promuovere e rispettare i diritti. Sicuramente, a concluso, la strada del servizio va controcorrente rispetto ai modelli dominanti ma in realtà ognuno di noi si sente contento e realizzato solo quando è utile per qualcuno.